Siamo con Alejandro Agac, nella prima giornata di prove di Formula E. Io mi ricordo che a Pechino 2014, nella conferenza stampa, tu hai detto che nella quinta stagione cercheremmo di fare le gare con una sola macchina. E così è stato. Complimenti! Grazie. Sì, devo dire che è stato proprio un colpo di fortuna. No, non credo che sia fortuna. Lo sapevo che... volevo, era l'obiettivo così che mettevo lì come desiderio massimo, ma ovviamente è quasi stato un miracolo arrivare qui. Tutto questo lavoro, quattro anni, le squadre hanno fatto un lavoro fantastico, tutto il team di Formula E, anche tutti quelli che fanno i motori, Spark, le macchine, tutti, no? E abbiamo riuscito a fare questa specie di piccolo miracolo di essere qui e di fare queste gare con una sola macchina. È veramente incredibile che la categoria, io ho avuto la fortuna di seguirla per le 45 gare, come ben sai, che sia cresciuta così tanto e che faccia invidia a più di uno. Eh sì, è impressionante, sono impressionato anch'io, ogni volta che vengo vedo che è più grande. Arrivavo oggi, vedevo questa cosa qua della televisione che stiamo facendo, tutto il compound lì, poi qui, no, no, tutto, tutto è fortissimo. Stiamo veramente, io sono veramente, cioè, lo guardo e non ci credo, ma siamo qua, va bene. Adesso è stato fatto un accordo molto importante con Heineken poco tempo fa e anche altri accordi che sono in divenire. Eh sì, abbiamo annunciato anche ieri Bosch, che è un accordo importantissimo, ugualmente grande a quello di Heineken, ma come abbiamo fatto Heineken lunedì e martedì Bosch, sono tutti e due vicini, allora non è fatto così tanto rumore, ma sono due grandissimi partner, più Saudia, che abbiamo annunciato un po' di giorni prima. Abbiamo veramente tre nuovi partner fortissimi per il campionato e abbiamo ancora qualcuno di annunciare prima dell'inizio della stagione, veramente dal punto di vista dei partner e dello sponsorship Formula E sta andando benissimo. Senza dimenticare che l'anno prossimo entrano Mercedes e Porsche e c'è una casa coreana che è lì. Sì, 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 sono alcuni altri costruttori che stanno vedendo per entrare nel campionato. Noi ovviamente a me piacerebbe molto uno costruttore della Corea e forse anche un costruttore degli Stati Uniti, ma non è che c'è tanto spazio per entrare adesso nel campionato più, ma vediamo. Ecco, erano già dieci team all'inizio, adesso sono già undici. Erano previsti fino a quattordici, se non ricordo male, originalmente. Sì, ma poi abbiamo fatto questo accordo con i team, che facciamo un massimo di duodici, che così dà anche più valore all'entry di ogni team, alla sua franchise, e allora sono un massimo di duodici team. Cosa ti aspetti per quest'anno? Quest'anno si aspettano gare nuove, tu personalmente cosa ti aspetti? Io mi aspetto un anno fantastico, un anno con delle gare bellissime, un anno ancora di sviluppo, ancora di grande crescita della Formula E. Secondo me queste nuove macchine saranno un grande aggancio per tutti i tifosi della Formula E. grande crescita, grande gare, poi la griglia dei piloti è fantastica, abbiamo avuto gli ultimi annunci di Van Dorn e di Verlijn, due grandi piloti che sono qui con noi, più Felipe, più tutti i nuovi che ci sono, Alexander Sims che sta andando fortissimo con la BMW. Sono stato sorpreso, devo dire, del pace della BMW il primo giorno, prima volta che they hit the track e sta andando molto forte. No, una grande stagione ci viene. Grazie Alejandro, complimenti ancora e ci vediamo in Arabia Saudita. Benissimo, grazie a voi.